Salve a tutti e ben ritrovati per questo nuovo video qui noi stiamo facendo la storia il gambetto italiano è un'apertura che ti dà soddisfazioni è un'apertura che presto potrebbe addirittura essere proibita non lo so, sto azzardando però sono certo che se giocata correttamente non perde mai intanto voglio ringraziare questo signore che ha pubblicato un articolo sul gambetto italiano lo trovate su chess.com, magari vi lascio il link in descrizione un bellissimo articolo dove addirittura è andato a reperire l'origine del nome del gambetto insomma racconta tutta la storia sul gambetto italiano grazie mille per questo articolo, ha anche un blog se volete potete andare a visitarlo oggi voglio mostrarvi due partite con questa apertura una molto molto semplice dove vinco in pochissime mosse la partita è durata addirittura meno di un minuto una partita blitz però durata meno di un minuto e l'altra una partita molto più seria una partita contro un grande maestro femminile per vedere come se la cava un giocatore esperto contro il gambetto italiano prima di iniziare ricordo a tutti di mettere mi piace di iscrivervi al canale grazie a tutti coloro che si stanno iscrivendo e iniziamo ok eccoci qui prima partita contro un 2375 una partita che dura solo 16 mosse una partita blitz che sono riuscito a vincere in meno di un minuto su questa partita ho già fatto uno short su youtube perché è veramente bellissimo anche il modo in cui l'ho giocata mentre ero in live l'avversario 2375 io apro con e4 lui risponde con e5 segue cavallo f3 cavallo c6 alfiere c4 alfiere c5 qui giochiamo il gambetto italiano che quando dico il motore non ci capisce niente è la verità perché allora ieri ci dava mossa buona oggi c'è la segna come imprecisione quindi vedete apertura sottovalutata apertura dove il motore ci capisce ben poco apertura che viene giocata per la prima volta contro il numero 4 al mondo e il numero 4 al mondo perde apertura che batte i grandi maestri apertura che batte i maestri cosa vogliamo di più lui cattura con il pedone allora qui si gioca cavallo g5 si mette subito pressione sul pedone in f7 ormai dovreste già saperlo ma un 2375 non sa più niente quando siamo solo alla quinta mossa perché? perché è un'apertura rara in più è un'apertura difficile come fa uno qui a conoscere la mossa giusta se non ha studiato? non può quindi gioca cavallo e5 allora possiamo già dire che dopo 5 mosse ora a gioco corretto con più 1 e 37 magari abbiamo partita vinta quindi guardate quanto è pericoloso il gambetto italiano io continuo con alfiere per f7 lui cattura di cavallo segue cavallo per re per addirittura qui dice che non deve neanche catturare ma insomma tutti catturano in questa posizione ora stopfish se ne esce con alfiere b4 molto bene magari analizzeremo anche questa però oggi soffermiamoci sulle partite quindi lui cattura con il re io proseguo con donna h5 scacco quindi do scacco sono pronto a riprendere indietro l'alfiere lui gioca a pedone g6 la mossa migliore segue donna d5 scacco questa mossa mi serve a far andare il re su casa scura perché lui sta per perdere l'alfiere campo scuro quindi le case scure del nero rimangono deboli infatti lui sposta il re su casa scura arriva donna per alfiere e ora qui una lezione che impariamo da questa partita e in generale dell'apertura italiana è che dobbiamo attaccare le case scure guardate allora lui ha perso l'alfiere campo scuro all'alfiere campo chiaro le case chiare lui le controlla bene perché all'alfiere le case scure no e allora guardate come riesco a vincere questa partita lui gioca a pedone d6 quindi mi attacca la donna io catturo il pedone in d4 do scacco lui gioca donna f6 offre il cambio di donne non mi conviene perché devo cambiare le donne quindi tiro indietro la donna in d3 allora lui continua con cavallo e7 vuole sviluppare i pezzi no io gioco a rocco metto il re al sicuro lui prosegue con torre 8 piazza la torre su una colonna semi aperta mi attacca il pedone in e4 e qui ora guardate la debolezza delle case scure proseguo semplicemente con alfiere d2 lascio il pedone in b2 in presa però su donna per b2 segue chiaramente alfiere c3 scacco e guadagno la donna quindi ora sto minacciando alfiere c3 lo stesso per inchiodare la donna e per guadagnare la donna lui cosa può fare? deve muovere o il re o la donna in questo caso lui decide di muovere via il re quindi gioca a re g8 la mossa migliore io continuo con alfiere c3 attacco la donna la donna si sposta in e6 ottima mossa cioè poverino il mio avversario non conosceva l'apertura perché per il resto sta giocando anche abbastanza bene il problema è che qui ha già partita persa io gioco donna d4 minaccio scacco matto in g7 minaccio di entrare in h8 vantaggio più 325 e l'avversario in questa posizione decide di abbandonare avrebbe potuto continuare certo però qui non gli piaceva il modo in cui stava giocando è stato semplicemente distrutto perché questa è la verità dopo 5 mosse stava peggio e alla sedicesima non se la sente più neanche di continuare perché il gambetto italiano è troppo forte tutto qui ora andiamo a vedere come se la cava un professionista grande maestro femminile ok? eccoci qui vgm vedete vgm vgm significa woman grand master quindi grande maestro femminile allora questa è una partita veramente molto molto combattuta e 4 e 5 cavallo f3 cavallo c6 alfero c4 alfero c5 pedone d4 gambetto italiano che oggi ci segna come imprecisione lei cattura di pedone cavallo g5 quindi stessa variante è solo che in questo caso lei trova la mossa giusta cavallo h6 professionista degli scacchi difende il pedone in f7 io catturo segue cavallo per alfero e per f7 re per f7 donna h5 stesso giochino di prima solo che in questo caso per il nero è meglio questa variante perché è il cavallo in g6 il cavallo difende il pedone in d4 e la casa è 5 quindi lei gioca a pedone g6 come vedete è tutta teoria segue donna per alfiere donna e 7 eccolo qui ora lei mi offre il cambio siamo a mossa 9 quindi praticamente ancora in apertura e lei ha già sbagliato grande maestro ha già sbagliato la partita è praticamente in varità se non leggero vantaggio per il bianco propone il cambio di donne io ritiro la donna do scacco lei continua con donna e 6 segue donna e 2 non voglio cambiare le donne sono abituato a non cambiare le donne nel gambetto italiano quindi anche voi non le cambiate ve lo consiglio torre in e8 per il nero mi attacca in e4 io proseguo con cavallo di 2 sviluppo un pezzo ora vi voglio far notare una cosa non sto giocando le mosse migliori non sto giocando alla perfezione questa è una partita di alto livello o comunque poi vediamo come la considera lo strumento di chess.com sto semplicemente sviluppando i pezzi sto cercando di capire cosa vuole fare lei voglio mettere il re al sicuro e voglio attaccare il re del nero questo per dirvi che anche se non giocate proprio le mosse migliori il gambetto italiano vi dà questa opportunità diciamo potete non giocare le mosse migliori e vincere lo stesso lei gioca a pedone d5 questa volta è la mossa migliore una mossa molto forte mette pressione sul pedone in e4 io continuo con f3 eccolo qui guardate questo è un errore è un errore lei passa in vantaggio leggero vantaggio la mia idea è quella di difendere il pedone magari di catturare di cavallo lei gioca al fiere d7 errore io continuo con arrocco mossa giusta segue rg8 lei vuole mettere il re al sicuro arriva h3 h3 è una mossa un po' lenta effettivamente avevo paura di cavallo b4 lo ammetto però h3 è lenta come manovra segue torre e7 addirittura una mossa che può sembrare logica però qui viene segnata come errore perché può sembrare logica? qual è il piano del nero? il nero in pratica sta controllando la colonna e con torre donna vuole giocare torre f8 per portare un altro pezzo in gioco o addirittura torre d8 io gioco donna f2 la mossa migliore lei gioca torre f8 appunto e qui commetto un altro errore donna e1 oddio questa non so neanche io per quale motivo l'ho giocata è una mossa che non ha molto senso effettivamente però la posizione rimane pari come potete vedere lei continua con donna d6 io gioco pedone b4 la mossa migliore ora ho un piano voglio giocare alfere b2 attaccare il pedone d4 e attaccare le case scure abbiamo detto che il nero ha le case scure deboli segue pedone a6 la mossa migliore da parte sua impedisce b5 io proseguo con alfiere b2 alfiere f5 questa mossa mi è piaciuta molto cioè spot com la da solo come buona ma in realtà sembrava un'ottima mossa un'idea molto carina non posso catturare altrimenti perdo la donna quindi gioco donna h4 segue alfiere d7 lei ritira l'alfiere e qui inizio a stare meglio continuo con torre e1 ora tutti i miei pezzi giocano lei gioca torre e8 segue pedone per d5 butto via un po' di vantaggio ma in realtà sto comunque meglio qui non ho paura di questa posizione guadagno un pedone momentaneamente offro il cambio delle torri la donna comunque difende 1 attacco il cavallo e lei decide di catturare in d5 ora questo però è un grave errore effettivamente io gioco cavallo e4 e guardate cosa minaccio cavallo f6 una mossa veramente micidiale darei un triplo qui attaccherei re torre donna e minaccierei addirittura anche la casa h7 quindi lei giustamente decide di dare via la qualità io catturo con la torre segue torre per pedone per e qui ho un grosso vantaggio questa partita possiamo dire che è da abbandono tranquillamente comunque continuiamo a giocare lei gioca donna e5 segue donna f4 offro il cambio di donne cerco di dare scacco matto in f8 lei allora accetta il cambio catturo con la torre segue alfiere e6 qui gioco h4 impedisco spinte pedonali da parte del nero lei attiva il re segue pedone e5 sacrifico un pezzo lei però non accetta perché la mia idea era su cavallo per di giocare alfiere per e di inchiodare cavallo e re quindi lei gioca alfiere f5 io continuo con alfiere per d4 guadagno un pedone segue re f7 pedone g4 lei qui perde un pezzo perché re f7 effettivamente è un grave errore e decide di abbandonare questa è la partita partita sofferta partita interessante in apertura medio gioco dove la posizione era pari diversi errori da entrambe le parti ora vediamo nella panoramica a che precisione è stata giocata questa partita cioè ragazzi ma di cosa stiamo parlando è vero ho commesso qualche errore ma l'ho giocata da 2700 cioè ho giocato la partita da 2700 lei 2450 questo è il suo reale punteggio ok perché lei vgm 2450 io da 2700 2700 è tantissimo perché questa è la potenza del gambetto italiano è un'apertura che sorprende spesso l'avversario grazie a tutti per la visione di questo video vi ricordo di mettere mi piace e di iscrivervi al canale ciao e alla prossima grazie a tutti Grazie a tutti